Stasera la Fiorentina aveva l'opportunità di vincere il primo trofeo dal 13 giugno 2001, quando vinse la Coppa Italia. Sono passati quasi 22 anni da allora e insomma era una grossa opportunità per questa squadra, che ha giocato una partita non brutta ma neanche esaltante, una partita in cui ha controllato tanto il pallone, ma è mancata di precisione e lucidità nell'ultimo terzo di campo, perdendo 2-1 contro West Ham. È stata la seconda finale che la Fiorentina ha perso quest'anno e considerando anche che il campionato non è stata straordinaria, arrivando ottava, come dobbiamo giudicare la sua stagione? La dobbiamo considerare positiva oppure negativa? Dobbiamo valutare meglio le luci o valutare di più le ombre? E come invece dobbiamo giudicare la stagione della Juve che in Europa ha deluso in Serie A, anche lì probabilmente ha deluso, anche se ci sono sicuramente degli attenuanti per quanto è successo fuori dal campo? E come invece dobbiamo giudicare la stagione della Talanta, che è tornata in Europa dopo un 2021-2022 molto deludente? È una stagione positiva oppure ci si doveva aspettare qualcosina in più dalla squadra dei Gasperini? Questo è il terzo uomo e stasera parleremo di quanto hanno fatto quest'anno Fiorentina, Juventus e Atalanta. Qui con me ci sono Cherson Wackpa, ciao Charlie. Ciao Gab, ciao a tutti ben ritrovati. E di ritorno da Lecce, Michele Tossani, ciao Mick. Ciao, ciao Gab, ciao Charlie. Ritorno sette ore e mezza di treno ma pieno di pasticciotti. Eh beh, sono buoni. Solo crema giusto dentro. Esatto, offerti anche dalla società perché in tribuna stampa ti danno un pasticciotto a testa. Bello. Allora direi che volevo chiederti come era andata in tribuna stampa ma credo che dopo questa notizia la risposta sia molto bene. Lussuosissimo. Iniziamo parlando ovviamente della finale persa dalla Fiorentina per 1-2 contro West Ham. Una partita molto beffarda per la Viola che insomma ha avuto il controllo totale del pallone, anche se poi questo controllo totale del pallone non si è trasmesso in grosse occasioni create, dato che ha creato appena 1,47 XG con 17 tiri. 1,47 XG non sono pochi, però se guardiamo il numero di tiri 17 ecco, la qualità media dell'occasione della Fiorentina è stata davvero bassa con ben 8 tiri da fuori area e poi alla fine difensivamente la Viola ha pagato due episodi, due disattenzioni, anche se la prima è stata secondo me molto sfortunata per Biraghi, mentre la sua seconda c'è il solito problema di questa squadra nel leggere i tagli e nel difendere con la linea. Ma secondo me è stata una partita buttata via dalla squadra di italiano, non so se a livello di qualità generale o di profondità della Rosa la Fiorentina fosse a livello o superiore all'West Ham, perché se andiamo a vedere i giocatori a disposizione della Rosa del West Ham, il West Ham è una signora squadra, però ed è un problema che si porta da tutto l'anno, non c'è allenatore, comunque insomma è stato il talento che hanno a disposizione, le qualità che hanno, tante o poche che siano, sono state sprecate, perché con la Rosa i giocatori che ci sono nel West Ham avrebbe dovuto anche in campionato produrre molto di più. Ora non so se questa vittoria salverà Moyes per l'anno prossimo. La partita l'hai scritta tu, la Fiorentina è stata in controllo del pallone, del ritmo di gioco, solo che il ritmo di gioco nel primo tempo è stato molto lento, nella ripresa meglio, la squadra ha alzato ulteriormente il baricentro, ha mosso più velocemente la palla, però come hai detto tu di occasioni, se andiamo a vedere l'XG medi per tiro sono stati molto bassi, quindi alla fine il West Ham si è difeso senza fare troppa fatica. Formazione di italiano, rivedibile, gestione dei cambi rivedibile, Barak che con il problema fisico di Castrovilli insieme a Buonaventura era il miglior centrocampista qualitativamente a disposizione della Viola, è entrato tardivamente. La Fiorentina non ha creato poco e nulla, alla fine ha pagato due episodi, serata da incubo da Perbiraghi, ha provocato il rigore e poi ha sbagliato la linea, ha sbagliato anche lui sulla linea, se non sbaglio è quello che ha tenuto in gioco sul gol dell'West Ham, però la Fiorentina ha avuto dei problemi tattici durante tutta la gara, Paquetà ha fatto quello che ha voluto, sul centro-sinistra ha dominato, ogni volta che entrava in possesso di palla creava pericolo, ha prodotto l'assist del gol decisivo e anche qui, come dicevi Tugo, Gab, la solita questione della gestione della palla coperta è scoperta da quarta della linea, è stata gestita male anche questa volta e in una finale fai un errore e lo paghi. Quindi alla fine non dico che abbia vinto la squadra migliore e nemmeno la più forte, ma diciamo quella che ha fatto meno errori in una partita complessivamente mediocre, con un gioco, insomma, la partita è stata mediocre, dai, senza aggiungere altro. Direi che su questo non c'è alcun dubbio. Aggiungo che la Fiorentina ha avuto per buona parte del primo tempo difficoltà ad avanzare, perché costruiva a tre con Amrabat che si abbassava in mezzo ai due centrali, Ranieri e Milenkovic, cosa che sì ogni tanto ha già fatto in stagione, però nelle ultime partite per lo più la Viola costruiva con uno dei due centrali che si alzava a sua linea degli centrocampisti e i due terzini che stringevano. Questa sera invece l'italiano ha deciso di fare in modo diverso, però poi gli altri giocatori stavano davvero, ma davvero tanto alti. Cioè si formava una linea offensiva a cinque, talvolta a sei, con entrambe le mezzali, Buonaventura e Mandragora, che stavano molto molto alte e quindi questo dava davvero poche possibilità, davvero poche tracce di passaggio per i tre costruttori iniziali. E quindi la Fiorentina ha fatto tanti passaggi tra questi tre costruttori e poi talvolta è stata costretta ad andare lunga. Per esempio Ranieri era il giocatore che dei tre tendeva di più a provare questo lancio lungo, di solito andando verso qua a me. E quindi è stata una Fiorentina che ha avuto difficoltà ad avanzare costruendo palla a terra e insomma macinando gioco come invece di solito fa. Poi la ripresa, il lancio lungo non è più stato tanto per qua a me, anche perché poi lui è uscito abbastanza presto per Saponara, ma è stato più per Nico González. Cosa che secondo me ha funzionato meglio, perché Nico ha vinto maggiori duelli rispetto al compagno di squadra, per la precisione, una 24 su 6. però questa squadra secondo me sa giocare meglio di quello che ha fatto, sa sviluppare il gioco meglio di quello che ha fatto, sa passare di più per il centro, per poi eventualmente dopo aprire il gioco sulle fasce e provare il cross. Invece questa sera la Fiorentina ha sviluppato il gioco per via centrali molto molto poco. Chiaramente ci sono anche dei meriti del West Ham che ha difeso bene quella zona, però secondo me avrebbe dovuto fare meglio. Sì, la Fiorentina è molto contratta. Io non so se perché non ha voluto rischiare di prendere transizioni negative, pericolose. C'è stato quell'azione iniziale, il primo tiro della partita, il tiro di Michel Antonio che è nato da quell'errore, insomma quella specie di passaggio, apertura di Buonaventura, Buonaventura che ha dato l'A a quello che Gianmica accennava prima, cioè la decisione di pochettata alle linee, anche se poi nell'altra partita in realtà secondo me il brasiliano non è stato così pericoloso. C'è stato l'azione del gol per l'1-2, ma in generale poi Ammar Bartker si è cresciuto nella gestione anche nell'impatto fisico sulla gara. Però quello che dicevi te sul, se vogliamo, staticità della linea offensiva, cioè tutti schiacciati addosso alla linea del West Ham e poco gioco centrale, mi ha un po' sorpreso, così come mi ha sorpreso anche la catena di destra, che mi aspettavo forse un po' più fluida nel gioco, nel fraseggio parla a terra. Ad esempio mi aspettavo Dodò qualche volta magari a stringere, lo ha fatto, però in genere ha provato a duettare con combinazioni lungo in linea, con Nico che magari attaccava lo spazio, oppure Buonaventura. Anche lo stesso Buonaventura mi ha abbastanza deluso a dare il gol, perché mi aspettavo qualcosa in più da parte su altre linee. Ma detto che comunque West Ham, insomma, quando non provava a pressare alta, poi si ricompattava bene, su altre quarti, con le due linee di difesa centrocampo molto molto strette, e Rice credo abbia fatto una buona partita a livello di copertura, sicuramente è stato uno dei due o tre migliori nel West Ham, e quindi la viola da quel punto di vista non ha avuto tante opzioni. Però ecco, anche la scelta di mettere Kwame, che non ha pagato offensivamente, difensivamente è stato molto goffo negli interventi, cioè anche quella scelta lì ha tolto possibilità di creare uno contro uno, provare il dribbling, provare a saltare l'uomo, quindi è stato abbastanza facile poi per la West Ham controllare queste trame offensive della scuola d'Italiano. Poi anche Bowen ha fatto una partita di grande tensione di piegamento su Biraghi, quando Biraghi provava a affondare e cercare il cross, che sappiamo, no? Un po' la principale arma di rifinitura di viola. Poi comunque anche le punte, insomma, Jovic, infatti il gol non l'altro, non è riuscito a emergere tra i due centrali da West Ham, lo stesso Cabral, che l'ha sostituito, insomma, non ha affatto un'apparizione degna di nota. Poi in generale nei cambi Igor è entrato malissimo, secondo me, purtroppo confermando questo periodo nero di una stagione molto deludente per quanto mi riguarda. Milenkovic ha giocato per una settantina al minuto, in una partita ottima, poi comunque anche lui ha avuto qualche mini disattenzione, qualche svista, c'è stato quel fallo un po', evitabile su Pachetà, ma in generale comunque credo sia stato uno dei migliori nella viola. Questa partita alla fine è equilibrata, penso che la viola non meritasse di perdere, ha creato sicuramente contro l'altra partita, però comunque West Ham è stato, con un po' di fortuna, con un po' di cinismo, più brava a portarla dalla sua parte, ecco. Sì, anche secondo me non meritava di perdere, e proprio per questo questa sconfitta fa ancora più male, perché questa partita era assolutamente alla portata, perché West Ham secondo me non ha fatto una bella prestazione, sì, difensivamente come dicevamo, non ha difesa abbastanza bene, però poi a livello offensivo ha fatto davvero poco, nel primo tempo non è quasi mai riuscito a ripartire, il pressing altro della Fiorentina lo ha messo molto in difficoltà. Insomma, le scelte di italiano, come avete già accennato voi, sono state veramente difficili da spiegare. Da una parte posso capire la scelta di mettere qua a me, perché comunque qua a me e gli attaccanti che ha la Fiorentina è quello più fisico, e quindi contro una squadra fisica come West Ham ci stava magari il voler avere più centimetri. Poi la scelta non ha pagato, però capisco la logica dietro. Invece non ho capito la scelta di mettere Jovic dall'inizio, perché oggettivamente Artur Cabral in questa stagione è stato nettamente migliore rispetto al serbo, e anche nell'ultimo periodo quello più in forma era il brasiliano. Poi oltre all'ingresso tardivo di Baracca aggiungo anche il fatto che, secondo me, con E si meritava di fare qualche minuto, anche perché avere un ulteriore giocatore che ti potesse creare superiorità numerica laterale a questa squadra avrebbe fatto comodo, invece l'unico che lo ha fatto è stato il solito Nico González, che secondo me è stato abbastanza nettamente il migliore in campo della Fiorentina, ed è stato anche un po' l'unico ad uscire dallo spartito, perché quando riceveva la palla sulla destra e provava gli isolamenti, talvolta anche contro due avversari, è spesso e volentieri riuscito a creare superiorità numerica e a rendersi abbastanza pericoloso. Non una partita clamorosa da parte sua, però in un mare di mediocrità sicuramente è quello che offensivamente ha fatto qualcosa in più. In aggiunta a quanto ho visto in campo, insomma, è uno spettacolo alla fine non eccezionale, devo dire che il comportamento dei tifosi del West Ham è stato veramente terribile, cioè a livello di maleducazione, di inciviltà clamorosa, cioè lanciare addirittura carte di credito, Apple Watch, insomma il livello di legato di questa partita è stato una cosa di allucinante. Beati quelli che li hanno ritrovati, che li hanno trovati, ecco perché insomma un Apple Watch qualcosa vale, magari bisogna vedere se sulla carta di credito c'era ancora qualcosa, però dai prendiamola a sorridere, però assolutamente comportamento imbarazzante con il lancio dei bicchieri di plastica, il lancio non so cos'era, un accendino, una sigaretta elettronica, che ha preso in testa Biraghi, che insomma, poi purtroppo si è ferito ed è uscito un bel po' di sangue, insomma un comportamento veramente imbarazzante. Uscendo dal discorso della partita, questa è stata la seconda finale che la Fiorentina ha perso in questa stagione, dopo quella di Coppa Italia contro l'Inter, in campionato è arrivata ottava, era partita abbastanza male, poi si è ripresa nella seconda parte, vi chiedo come giudicate la stagione della Viola e che voto le date? Ma il voto secondo me non è negativissimo, però diciamo al massimo può essere un 6, 6 più. In campionato la squadra è arrivata ottava, si è salvata con una seconda parte di stagione ottima, la prima è stata negativa, però alla fine è arrivata ottava, insomma ci può stare a livello di rosa. Questa è una squadra che comunque ha dei problemi davanti in fase realizzativa, basti vedere il rapporto fra i gol segnati e i gol attesi, che ha bisogno di un Gonzales l'anno prossimo sano tutto l'anno e ha bisogno degli upgrade notevoli dal punto di vista del centravanti e dell'altro esterno. C'è da dire che l'italiano ha fatto un turnover secondo me esagerato, ci ha messo troppo a inserire la qualità, perché questa è una squadra che con Amrabat Play ha bisogno di mezzali di qualità, è vero che Castroviglia è stato infortunato a lungo, però doveva dare più minuti a Barak secondo me, il turnover ripeto è stato esagerato, ha proposto qualche soluzione interessante, come per esempio quella del centrale difensivo che si alza in possesso e questo ha avuto tutta una serie di ricadute positive, però ripeto la squadra si è salvata con una seconda parte di stagione buona, ma la prima parte è stata negativa, poi però è vero che ha raggiunto due finali, però l'ha perso tutte e due. Questa alla fine, insomma se ci stava la sconfitta contro l'Inter, magari con il West Ham era possibile ed era auspicabile anche, insomma non stiamo parlando di una big del catch inglese, secondo me era una partita che si poteva vincere, mi lasciano perplesse le scelte iniziali di formazione. Allora io do un 6,5 alla stagione della Viola, perché mi aspettavo di più in campionato, ha fatto chiaramente un bel percorso nelle coppe, insomma è stata sfortunata nell'esito delle due finali, più in questa direi soprattutto per l'andarsi alla partita che è quella contro l'Inter, dove oggettivamente a livello difensivo aveva fatto molto molto peggio, soprattutto nel primo tempo. Ecco, poi l'italiano è stato bravo, secondo me anche in questa seconda parte di gestione, a gestire proprio il gruppo, a fare anche le rotazioni, cosa non scontata, secondo me, perché comunque la Viola è vero che ha una rosa abbastanza lunga, però credo ci siano un po' dei dislivelli in alcuni ruoli, anche rispetto a certe titolari e riserve in base al rendimento, però insomma che la Fiorentina abbia esistato abbastanza bene questa turnover, nella seconda parte di stagione in cui oggettivamente è riuscito a fare poi un filotto importante che l'ha vista concludere all'ottavo posto. Prima parte di stagione però non è stata per nulla positiva, è stata una squadra a lungo, vicina alla zona retrocessione, mi è sembrato che ci sia stato un passo indietro netto dal punto di vista del gioco, cioè è stata una squadra per un tratto di stagione poco bellante, poco fluido, molto prevedibile e poco incisiva alla fine dell'ultimo terzo, tanti cross, errori di finalizzazione rispetto a quanto creava, errori di rifinitura, rispetto all'amore di gioco che accumulava, infortuni di Nico, chiaramente hanno tolto qualità, hanno tolto opzioni, i due attaccanti, soprattutto Cavale, hanno partito in Maluccio, poi appunto c'è stato lo switch di cui abbiamo ormai parlato più volte nel corso di questo podcast. Ecco, non è stata una stagione super brillante, cioè in campionato ci si poteva aspettare un po' di più, nonostante non sia stato riscattato Torreira, nonostante un po' i dubbi che circolavano alla fine sugli attaccanti, su come potessero rendere nel gioco l'italiano per quello che hanno richiesto, però abbiamo comunque visto, secondo me, una squadra che quando stava bene riusciva a esprimere un buon gioco, riusciva a essere intensa, il problema è che difensivamente questa squadra a livello di centrali mi sembra messa maluccio, non tanto perché non siano forti o perché il sistema li esponga molto individualmente, ma proprio in generale come organizzazione mi sembra che la Valentina non sia mai riuscita del tutto a togliere questi errori, queste situazioni che potevano poi tramutarsi nei episodi negativi, in generale secondo me anche in questa seconda parte di stagione dove è stata sì brillante nei risultati, anche nel gioco, ha continuato a convivere con gli stessi errori, quindi è stato un po' un trade-off che ha visto la squadra fare bene, ma senza mai del tutto togliere quella crisi di fondo, quindi comunque l'italiano secondo me è stato bravo a rimettere in sesto le cose, però la stagione è un pochino derudente, chiaramente c'è anche il finale a mano per queste due finali diverse, credo che per questi motivi si possa dare una sufficienza piena, qualcosa in più, però sicuramente non andiamo al 7, oltre al 7, ecco, 6 e mezzo è il voto giusto per me. Sì, sono d'accordo con te sul voto, anche per me è un 6 e mezzo, e diciamo che io do valore al fatto che questa stagione si sia chiusa in crescendo, cioè meglio chiudere la stagione in crescendo che in calando, meglio avere una stagione in cui parti male ma poi la chiudi bene, piuttosto che una in cui parti bene ma poi la chiudi male, e l'italiano è stato molto bravo a sistemare le cose in corsa, cosa che non era per nulla scontata, ha trovato delle modifiche dal punto di vista tattico che hanno sicuramente migliorato la Fiorentina, per esempio quella in costruzione a cui accennavamo prima con il centrale che si alza e i tersini che si stringono formando una sorta di 3 più 1 o 3 più 2 qualora Amrabat rimanga al fianco del centrale che si alza. Tra l'altro Amrabat, secondo me, al di là del mondiale, ha giocato una buonissima seconda parte di stagione con la Fiorentina e mi sembra che le sue qualità in costruzione siano un pochino sottovalutate, non che sia un fenomeno, non è lontanamente paragonabile ad altri giocatori top in quel ruolo, però non è così tecnicamente scarso come a volte invece qui in Italia lo si descrive. Forse all'estero è stato un po' troppo sopravvalutato per il mondiale, qui in Italia invece mi sembra sia un po' troppo sottovalutato per magari le sue difficoltà tecniche che aveva, però più nelle stagioni passate che in questa. Infatti è tra i primi nella classifica dei passaggi progressivi in media ogni 90 minuti del nostro campionato e che qualcosina vorrà dire. Poi ripeto, non è Kimmich, non è Rodri, non è Busquets, però ecco, tecnicamente non è così male come a volte lo si descrive qui da noi. Tornando al discorso generale, un'altra sicuramente novità importante nella seconda parte di stagione è stata la posizione di Dodò che talvolta stringeva a fare quasi la mezzala in fase di possesso palla. Tra l'altro il brasiliano assieme a Cabral è stato un giocatore che è cresciuto maggiormente nella seconda parte di stagione e potranno essere insomma due risorse importanti nel prossimo anno. Buonaventura, pur non giocando agli stessi livelli dell'anno scorso, comunque è stato un giocatore molto importante e nella prima parte di campionato quando la Viola giocava male era spesso e volentieri l'unico a salvarsi o comunque uno dei pochi a salvarsi. Ho sbagliato tanti pronostici fatti ad agosto sulla Serie A però uno posso dire di averlo preso completamente cioè che Luca Jovic ha fatto schifo e poi che altro dire? Beh, sui centrali Charlie è ragionissima tutti secondo me sono calati rispetto all'anno scorso perché Igor l'anno scorso negli ultimi mesi aveva fatto molto bene Milenkovic aveva giocato una buonissima stagione Martinez Quarta aveva fatto vedere pregi e difetti che si sono rivisti anche quest'anno e insomma è evidente come questo modo di difendere sovraccarichi tanto di responsabilità a questi giocatori che forse non sono all'altezza di averle e poi per quanto riguarda l'anno prossimo sicuramente molto del futuro e la Fiorentina dipenderà da cosa succederà con l'italiano perché se rimane secondo me la Viola può essere una squadra interessante da seguire vedremo se dovesse fare l'Europa perché comunque c'è ancora il punto di domanda su cosa succederà alla Juve quindi se qualora la Juve non venisse squalificata dalla UEFA alla Fiorentina in teoria dovrebbe andare a fare i preliminari di Conference League ma al di là di questo è una squadra che secondo me può essere interessante in campionato se invece l'italiano non dovesse rimanere poi bisognerà vedere chi sceglieranno però al momento questa squadra ha una certezza o meglio ha avuto una certezza in queste due stagioni cioè Vincenzo Italiano che si è dimostrato essere un bravissimo allenatore e quindi qualora dovesse rimanere sarebbe una gran bella notizia per la Viola qualora dovesse andare sarebbe una gran bella notizia per la squadra che lo prenderà aggiungerei in caso anche di permanenza per quello che abbiamo visto negli ultimi mesi magari un Castrovilli al 100% per tutta la stagione può sicuramente aumentare il tasso tecnico il tasso qualitativo di questa squadra e anche insomma crescere lui proprio come impatto in Cisività nell'ultimo terzo assolutamente così come anche avere Nico González sano perché c'è stata una Fiorentina senza Nico e una Fiorentina con Nico perché è un giocatore elettrico un giocatore che davvero ti trascina trascina la squadra insomma un giocatore secondo me forte che è anche migliorato rispetto al suo primo anno in Italia in cui aveva avuto alti e bassi passiamo a parlare della stagione della Juve che in Serie A scusate in Serie A made in Italy ora dobbiamo chiamarla così il governo potrebbe dare 10 milioni l'anno anche a noi per chiamare il nostro campionato in questo modo però purtroppo non ce li vogliono dare e in Serie A dicevo la Juventus è arrivata terza sul campo e settima con i 10 punti di penalizzazione in Champions è uscita malamente ai gironi contro Benfica e Paris Saint Germain in Europa League è uscita in semifinale contro i Siviglia e i supplementari in Coppa Italia è uscita anche qui in semifinale contro l'Inter la domanda è sempre la stessa come giudicate la stagione dei bianconeri e che voto le date? per me la stagione della Juve è da 5 e mezzo c'è un mezzo voto in più se non altro perché comunque in campionato ci sono state delle difficoltà tutta la questione extracampo che può avere inciso chiaramente ha condizionato anche l'umore e l'atteggiamento della squadra verso il campionato però in generale la stagione per me non è stata assolutamente positiva la Champions è stata pessima a livello di rendimento con l'eliminazione nella fase a gironi c'è stato un mini riscatto in Europa League alla fine la Juve è arrivata tra le prime 4 quando è scesa in Europa League oggettivamente era tra le più forti fatto un percorso regolare fino all'eliminazione con Siviglia una brutta eliminazione perché comunque anche lì nel doppio confronto non ha giocato benissimo che dire sono tante cose da dire su questa squadra sarò un attimo sintetico poi allarghiamo il discorso in generale innanzitutto rispetto alle mie sensazioni per quanto riguarda il campionato quando abbiamo fatto la preview pensavo che la Juve fosse una rosa da top 3 però per vincere la Scudetto avrebbe avuto bisogno di Rere Chiesa e Pogba Sani oltre a un Di Maria continuo anche dopo il mondiale beh non è successo nessuna delle tre cose perché Pogba non c'è quasi mai stato Di Maria è andato a fasi molto alterne e Chiesa è rientrato però lui è stato anche un po' vittima secondo me delle scelte tecniche di cui poi parleremo e la Juve non ha avuto con continuità questi potenziali tra i leader tecnici la fase offensiva è stata molto carente per lunghi tratti tutte le punte ne hanno sofferto in particolare la fase difensiva ha detto abbastanza bene c'è stato quel filotto nella fase centrale dove la Juve collezionava clean sheet c'è stata un'esaltazione dell'allegrivo ne abbiamo parlato anche in maniera molto approfondita qui però si vedevano le crepe di questo modo di giocare un blocco molto basso che lasciava entrare volentieri gli avversari in area di rigore è vero che la Juve in quella fase concedeva poi tiri a bassa probabilità di successo di realizzazione però comunque erano già dei piccoli campbellini d'allarme che questo modo di approcciare le partite avrebbe potuto non pagare contro avversare di carattura tecnica superiore e infatti poi si è visto a San Paolo in quel 5-1 rovoante rifilato dal Napoli partita anche lì condizionata da una scelta tecnica tattica disastrosa la scelta di mettere Chiesa a quinto in quella partita sul lato di Kwarazkele e Mario Rui è stato un suicidio a livello tattico in generale credo l'unica cosa che si possa salvare al di là di pochi singoli qualche singolo e di uno o due giovani che nell'arco della stagione hanno un po' dato entusiasmo secondo me alla squadra o comunque portato un minimo di freschezza credo l'unica cosa che ha funzionato bene per tutta la stagione è stata la gestione delle pari inattive a favore perché su questo oggettivamente la Juve ha lavorato piuttosto bene secondo me però in generale per quello che erano le premesse al di là della questione extra tempo la stagione non può assolutamente considerarsi positiva o da sufficienza ma per me è una stagione da quattro e mezzo perché aveva una rosa per competere per lo scudetto e per vincere lo scudetto al netto dell'infortunio di Pogba non è una rosa da arrivare a quella distanza siderale dal Napoli le vicende extracampo possono avere inciso non lo metto in dubbio ma la Juve doveva avere la forza tecnica e mentale per poter comunque rimanere attaccata almeno alla terza posizione ci sono dei giocatori che hanno reso molto al di sotto delle aspettative e non totalmente per colpa loro ma per come sono stati impiegati dal tecnico la proposta tecnica non è stata soddisfacente dal punto di vista proprio dell'efficacia che è quello che mi interessa valutare perché poi le questioni estetiche ognuno ha le sue e non si può entrare in questo in merito però la questione è quella dell'efficacia e secondo me i giocatori non sono stati utilizzati in maniera tale da produrre la fase difensiva ha funzionato solo per la stagione straordinaria dei due portieri non tanto per la resa della difesa o dell'intero blocco difensivo la fase posizionale che era uno dei punti di forza della prima Juve di Allegri non ha funzionato ripeto quando ha prodotto risultati c'è stata soprattutto una striscia anche qui positiva derivante soprattutto dallo stato di forma ottimo di Scesni e Perin vuoi un dato? sì sì certo Juve e Lecce secondo il modello di Opta hanno concesso lo stesso identico numero di XG rigori esclusi durante la serie A 2022-2023 il che rende molto merito alla squadra di Baroni però fa anche capire come la Juventus non abbia avuto numeri di elite ecco per esempio ben lontani da quelli della Roma che invece difende in maniera semplificando abbastanza simile come concetti però ha concesso molto molto meno poi lì la differenza è stata fa anche nei portieri che come dicevi te nella Juve hanno giocato una bella stagione mentre nella Roma lui Patricio ha fatto male le partite chiave sono state sbagliate credo tutte quasi tutte quasi tutte fase offensiva inesistente giocatori che dovevano fare dei progressi dovevano essere allenati per progredire penso a Vlaovic hanno perso un anno fondamentalmente non sono progrediti campagna di Coppa Italia vabbè ci può stare comunque l'eliminazione campagna europea no la Juve non doveva uscire dalla Champions da quel girone e doveva fare molte strade in Europa League dove come ha detto Charlie era una delle squadre delle squadre più forti quindi secondo me è stata è una stagione se si esclude appunto la questione delle palle inattive già citata da Charlie è stata una stagione totalmente da buttare io do un 5 insomma gli aspetti negativi li avete già sottolineati voi una squadra che che ha faticato tantissimo a produrre gioco e produrre occasioni e assegnare che non ha minimamente messo in condizioni i propri attaccanti di essere pericolosi con una certa costanza al di fuori di Moise Ken che come dicevo già qualche mese fa ha numeri a livello di occasioni e di tocchi in zone pericolose nettamente superiori a quelli di Milic e di Vlaovic ma qui ci entrano sicuramente anche le caratteristiche dei singoli giocatori e ci sono tre aspetti che non mi fanno andare sotto il 5 uno è naturalmente gli infortuni che non hanno aiutato Allegri anche se diciamo che Pogba ci fosse poco e niente era prevedibile che Chiesa tornasse dopo un po' di tempo e avesse bisogno di tempo per carburare era prevedibile che Di Maria facesse un po' in e un po' out dall'infermeria era prevedibile che Milic anch'esso non stesse sempre sano era prevedibile considerando la sua carriera insomma sì sono stati infortuni però erano infortuni che in buona parte ci si poteva attendere poi la Juve è stata altamente sfortunata perché magari le cose potevano girare un po' meglio da questo punto di vista però ecco Allegri non ha quasi mai avuto tutta la rosa di disposizione il secondo punto da sottolineare è che c'è stato c'è stato tanto al di fuori del campo è cambiata la dirigenza c'è stata la penalizzazione insomma si è parlato più del fuoricampo che dell'incampo e io credo che Allegri e la squadra abbiano gestito bene questi aspetti perché non era facile la Juve poteva crollare e non è crollata e poi il terzo aspetto che secondo me è l'aspetto più positivo di quest'annata riguarda il lancio di diversi giovani la Juve è l'unica squadra del nostro campionato da avere l'Under 23 e questa stagione e in questa stagione questa scelta che la Juve fece diversi anni fa ha iniziato a pagare perché la Juve ha inserito nel proprio organico della prima squadra diversi giocatori che non sono stati fenomenali ma è anche normale che sia così magari lo saranno tra 1, 2, 3, 4 anni questo non lo sappiamo però hanno avuto un buon impatto e sono stati utili Miretti e Fagioli soprattutto ma anche Eiling Junior ha fatto vedere cose molto interessanti però rispetto a quello che dice Allegri bisogna chiarire una cosa cioè che la Juve quest'anno non è stata una squadra giovane Allegri ha spesso giustificato le prestazioni risultati negativi dicendo in campo c'erano 2, 3, 4, 5 giovani ma la verità è che se guardiamo l'età media pesata per i minuti giocati dei giocatori della Juventus in campionato l'età media dei giocatori della Juve pesata ripeto è quella di 28,5 anni cioè la quarta più alta del nostro campionato soltanto Inter Lazio e Sampdoria hanno un'età media più alta questa età media non è l'età media di una squadra giovane ecco la Juve ha sicuramente inserito alcuni giovani però non mi si può venire a parlare di età giovane io sono abbastanza in disaccordo quando citi il lancio dei giovani cioè è vero che hanno trovato spazio però non è stato tanto qualcosa di programmato è un po' una mossa della disperazione perché penso per esempio a Fagioli che si è imposto come titolare nella seconda parte di stagione soprattutto lui è stato messo perché Paredes ha fatto cagare perché Pogba non è stato quasi mai disponibile anche lo stesso Eling Junior ha iniziato a trovare spazio in un momento in cui Kostic ha avuto un chiaro appellamento fisiologico e Alexandro chiaramente non poteva fare granché sull'out di sinistra come terzino o come eventualmente quinto a tutta fascia insomma c'è stato uno dei giovani non tanto per volontà reale secondo me della guida tecnica ma perché i giocatori i presunti giocatori di esperienza su cui la Juve aveva puntato spattò a centro campo non ci sono stati o hanno oggettivamente deluso le aspettative io mi ricordo l'anno scorso tutti in estate c'era questo discorso del non si può giocare a calcio senza Paredes sembrava proprio che non si potesse giocare a calcio senza Paredes Paredes ha giocato ha fatto veramente schifo cioè da questo punto di vista sono stati lanciati un po' per caso secondo me che con una reale programmazione e poi un'altra cosa però scusa lasciami dire che sì sicuramente quello che dici te è vero e apro una parentesi Paredes per me è stata la più grande delusione della stagione di Juventina ancora più di Vlaovic e anche di Bremer ma su Bremer magari ne parliamo dopo però è anche normale che Allegri delle priorità Paredes e Kostic rispetto a Fagioli e Eiling Junior qualunque altro allenatore avrebbe prima provato questi due e poi semmai ha inserito i giovani no no assolutamente poi un'altra cosa è vero che non ha quasi mai avuto tutta cosa a disposizione ma per assurdo quando sono stati tutti disponibili secondo me la Juve ha giocato pure peggio di come giocava e credo forse un po' per le questioni extracampo forse perché c'è stato il mondiale di mezzo nessuno si ricorda quanto schifo abbia fatto la Juve nella primissima parte di stagione in Champions e fino alla gara col Monza cioè è stata una Juve veramente abberante poi c'è stata una netta ripresa ripeto nella seconda parte di stagione comunque la squadra ha tirato fuori l'orgoglio è rimasta attaccata bene o male alle posizioni alte della classifica però è stata una stagione veramente molto molto tragica sotto certi punti di vista allora di Vlaovic abbiamo già abbondantemente parlato nei mesi scorsi quindi non starei troppo ad analizzarlo però volevo fare un giochino su di lui allora io vi leggo i nomi di altri giocatori di Serie A e voi dovete dirmi se ha una media di tocchi in area di rigore per 90 minuti superiore o inferiore a quella del serbo quella del serbo è di 4,77 Andrea Pinamonti ha più tocchi in area o meno di Vlaovic di meglio in 90 minuti leggermente meno io penso ne abbia di più sì ne ha di più 5 Jonathan Iconè di più ne ha di più sì 4,89 Isaac Success di meno secondo me ne ha di più anche lui sì ne ha di più anche lui Fabio Quagliarella che è più o meno all'età di Mick voglio voglio pensare che ne abbia di più anche se sarebbe clamoroso ma a parte essere contento di avere l'età di Quagliarella secondo me ne ha di più Quagliarella sì 5,17 Charles De Ketelare di più o di meno di più secondo me questi hanno di più di Vlaovic a questo punto ma io non so chi sia perché non l'ho mai visto anche perché quando c'era non toccava palla quindi comunque credo ne abbia di più dai sì ne ha anche lui di più l'ultimo Gleison Brammer di più o di meno considerando che la Juve ha fatto forse più tiri su pallone attiva che in open play direi di più secondo me ci sta che ne abbia di più no no questo era un tranello ne ha di meno dai ci mancava solo che il difensore centrale avesse più tocchi in area di rigore rispetto rispetto all'attaccante per la precisione a 1,71 che è molto meno rispetto al 4,77 di di Vlaovic comunque a proposito di Brammer Mick come giudichi la sua stagione? negativa ma anche qui non non totalmente colpa sua ad oggi Brammer è un giocatore di sistema abituato a una difesa uomo contro uomo aggressiva a spezzare la linea a uscire in avanti a mettere pressione all'avversario in qualsiasi zona del campo non ha giocato in questo tipo di sistema quindi non vuol dire che in futuro non possa adattarsi a un tipo di calcio diverso però anche qui si torna al punto di prima deve essere allenato istruito per fare un tipo di calcio diverso da quello nel quale si è esaltato fino ad oggi oggi è semplicemente un giocatore che ha dimostrato di essere forte in un certo tipo di calcio è stato messo in un altro tipo di calcio probabilmente senza lavorarci a sufficienza e ha fatto fatico a Charlie invece volevo fare due domande parto dalla prima come giudichi la stagione di Locatelli? per me la stagione di Locatelli da 5 e più 5 e mezzo perché oggettivamente non ha avuto una crescita anche lui è stato secondo me vittima delle difficoltà della mancanza anche di struttura di questa squadra a livello tecnico tattico ma è la seconda stagione dove lui viene utilizzato come vertice basso di un centrocampo a tre ha le doti per farlo però io ho visto un'involuzione netta a livello tecnico da questo punto di vista è un giocatore che ormai è molto lontano dal pareggiatore che avevamo ammirato a Sassuolo ora c'è sempre un po' questo discorso secondo me esagerato da parte dei tifosi delle big penso soprattutto ai tifosi gioventini delle pressioni che quel giocatore vale il Sassuolo il Monza eccetera eccetera sicuramente Locca giocava in un sistema molto peculiare ben collaudato quando era a Reggio Emilia però comunque è un giocatore che ha dimostrato anche l'anno scorso a spazi di poter essere una pedina importante per questa squadra penso che le cose migliori abbia fatte quest'anno giocando come interno a due e anche in pochi sprazzi di partita che ha avuto come mezzala si sono viste le sue qualità come box to box la capacità anche di invaderla di accompagnare l'azione penso che lui ecco e Rabiot quando hanno giocato da interni hanno fatto abbastanza bene sicuramente lui è cresciuto a livello di atteggiamento e contributo difensivo perché è molto più coinvolto anche per come gioca la squadra però secondo me non è stato minimamente valorizzato a livello tecnico ho visto tanti errori in gestione da parte sua palloni buttati palloni regalati agli avversari però anche qua mi ricollego la Juve è una scuola che da anni non solo da quest'anno ha difficoltà a pareggiare e giocare in zona centrale col centrocampo anche se sicuramente la presenza di Fagioli in Mere ti può aver aiutato in qualche modo o almeno in parte ad avere un po' più di qualità in mezzo al campo però la sua stagione secondo me non è positiva Allegri dovrebbe rimanere nel senso che ne ha anche parlato oggi il DG di Scanavino e dovrebbe rimanere ecco poi non si sa mai però lui lo ha confermato quindi atteniamoci alle sue parole però mi pare abbastanza chiaro ormai da diversi mesi che questa squadra per migliorare debba alzare il ritmo in entrambe le fasi debba alzare il ritmo innanzitutto in fase di non possesso dove comunque sia l'anno scorso che quest'anno nelle partite in cui ha provato a pressare alta all'avversaria ha spesso e volentieri messo in difficoltà mi ricordo per esempio l'andata con la Roma alcuni sprazzi contro l'Inter insomma è una squadra che pressa di rado ma quando l'ha fatto l'ha fatto discretamente bene perché comunque ha dei giocatori adatti nel farlo Bremer soprattutto ma anche Rabiot in mezzo al campo può farlo insomma ci sono giocatori che sono adatti secondo me a giocare in quel tipo in quel tipo di gioco in ogni caso prima di chiudere sul tema Juve volevo fare un giochino con Charlie quindi io ti dirò il nome di un giovane giocatore della Juve e tu hai due minuti per descrivere i pregi e in cosa invece credi tu debba migliorare partiamo da da Fagioli due minuti di timer pregi penso la personalità si è calato bene in un momento difficile ha dato un po' di entusiasmo un po' di brillantezza alla zona migliore del campo non credo sia una mezzala cioè credo comunque per farla a mezzala debba migliorare nel contributo offensivo nella capacità di leggere e accompagnare l'azione però comunque per il contesto in cui si è trovato a giocare secondo me ha fatto bene anche se poi nella parte finale si è un po' perso diciamo c'è stato quell'errore contro il Sassuolo si è visto che comunque è un ragazzo ancora da questo punto di vista un po' sensibile però non mi sento di giudicarlo negativamente secondo me lui ha fatto veramente bene in questo contesto per il modo in cui è stato lanciato se consideriamo che era praticamente in partenza fino a pochi giorni dall'inizio del campionato ha una media di tiri assistiti in Serie A in media di 90 minuti di 0,89 che è molto basso secondo me per una mezzala di qualità comunque lui è più un giocatore diciamo più un costruttore che un rifinitore però credo che debba migliorare in questo passiamo a Miretti sempre due minuti Allora Miretti secondo me era partito piuttosto bene a inizio anno nei momenti in cui la Juve senza Di Maria faticava a trovare un appoggio un perno sulla tre quarti lui aveva dei buoni movimenti dei buoni smarcamenti però poi ha fatto una seconda parte di stagione piuttosto negativa ha avuto problemi fisici ma in generale mi è sembrato un po' perso spostato nella posizione di seconda punta a giocare anche un calcio non suo un calcio di accompagnamento un calcio più reattivo di attacco alle seconde palle in appoggio a Milik o a Ken o allo stesso Vlaovic insomma anche lui è stato un po' perso però chiaramente ha delle qualità nello stretto qualità e potenziale qualità per quanto riguarda la rifinitura l'ultimo passaggio sono aspetti in cui ha fatto vedere di avere comunque il piede caldo sicuramente può migliorare una squadra più ordinata più strutturata ecco non è un rifinitore top però comunque un giocatore che secondo me già oggi in Serie A può fare abbastanza bene comunque in quelle zone lì Mattias Sule devo dire sinceramente nonostante il hype che c'è su di lui quando l'ho visto mi è sembrato piuttosto indietro atleticamente cioè ha delle delle giocate delle azioni in cui quando riesce a convergere andare sul sinistro può essere pericoloso però proprio atleticamente secondo me lui è uno di quelli che magari avrebbe bisogno di fare un buon prestito giocare tanto non lo so in una media o in una media o piccola nel nostro campionato forse anche in B però ecco essendo già un giocatore nel giro nazionale si può limitare alla bassa Serie A però secondo me lui è uno che avrebbe bisogno di crescere proprio a livello di continuità e di impatto atletico perché mi sembra un po' indietro rispetto agli altri quello che a me piace di più Ealing Junior beh Ealing è stato semplicemente devastante capacità di andare sul fondo di saltare l'uomo che è veramente mano dal cielo per questa squadra ha dato anche lui brillantezza in un momento in cui Kostic ha iniziato a calare a essere meno lucido nelle scelte non che fosse un giocatore super lucido però chiaramente l'efficacia dei suoi cross a scesone nettamente da questo punto di vista Ealing ha avuto un grande impatto non ha capito poi la scelta di Allegri di metterlo a piede invertito qualcosa che lui ha dimostrato di aver sofferto anche nelle poche situazioni in cui ci ha giocato negli giovanili però è un giocatore secondo me da tenere d'occhio sono curioso di vedere quanto spazio e che impatto avrà l'anno prossimo questa squadra sperando rimanga perché nel senso qualche voce su una sua possibile eccezione per Farcassa è uscita però sarebbe veramente veramente assurdo vuol dire qualcosina su Barri Nelcea oppure ha giocato talmente poco che secondo te è ingiudicabile ha giocato poco poi in generale non ho avuto modo di seguirlo una partita in cui ha giocato quindi non mi sento di esprimere il giudizio ok dai vedremo cosa succederà si è parlato ormai per tanto tempo dell'arrivo di Giuntoli come direttore sportivo della Juve però in questo momento sembra che Giuntoli rimarrà ancora un anno al Napoli e il insomma il direttore sportivo colui che curerà l'aspetto più sportivo dovrebbe essere dovrebbe essere Manna e la Juve ha da valutare diversi rinnovi quello di Rabiot che sicuramente tra i giocatori in scadenza è quello più più importante c'è Quadrado che anche è in scadenza anche se quest'anno non ha di certo fatto bene però è un giocatore comunque che nello spoiatoio quanto si dice ha grande peso quindi magari lo rinnoveranno e poi è scattato in automatico il rinnovo di un anno per Alexandro visto il numero di presenze raggiunto Alexandro ha un contratto da 6 milioni netti l'anno è il nonno più pagato della serie A prende quanto l'autore di Maria rendiamoci conto questo giusto per dire è uno dei tantissimi errori che la dirigenza la ex dirigenza della Juve ha fatto negli ultimi anni aggiungerei scusa che comunque l'eventuale rinnovo di quadrado sarebbe solo per compensare un'altra scelta folle quello di rinnovare De Sciglio fino al 2025 considerando che adesso De Sciglio è out per chissà quanto vero e poi la prossima sarà l'ultima stagione di Bonucci dopo la quale lui si retirerà e insomma questa stagione di Bonucci è stata altamente negativa e si è visto come si si Bonucci non si è già ritirato eh no è stata convocata anche in nazionale ah pensavo si fosse ritirato da due o tre anni bella scelta è convocarlo chiudiamo la puntata parlando della stagione dell'Atalanta che è arrivata quinta in campionato sesta sul campo ma insomma cambia poco visto che giocherà la prossima Europa League è uscita ai quarti di Coppa Italia contro l'Inter solita domanda come giudicate la stagione della Dea e che voto le date ma io le do un voto positivo almeno sei e mezzo perché comunque sia non è secondo me a livello qualitativo l'Atalanta di qualche stagione fa pur avendo sempre ottimi giocatori non è una rosa che si doveva per forza ammesso che ci sia un per forza nel calcio nello sport qualificare fra le la Champions quindi arrivare fra le prime quattro è riuscita comunque a centrare l'Europa e secondo me è un ottimo è un ottimo risultato ha avuto dei momenti buoni altri meno buoni ma il campionato è stato lungo e difficile per tutti secondo me ha gestito bene poi anche la le difficoltà e in particolare mi riferisco alla ricollegando i discorsi di prima alla alla non più grande qualità che può presentare sugli esterni come invece aveva rispetto a qualche anno fa e alla stagione negativa di Zapata e Murie quindi questo secondo me non è non è un risultato da poco Gasperini da quel che si dice dovrebbe continuare il progetto Atalanta non si sa e forse non si saprà mai se per convincimento oppure perché non ha trovato offerte superiori per lui è un po' una noia perché mi aspetto che spero che Gasperini mi stupisca con qualche novità ma ho paura che vedremo l'anno prossimo l'Atalanta giocare nello stesso modo degli ultimi 3-4 anni e quindi questo è un po' noioso per me però quest'anno soprattutto una prima parte ha un po' abbassato il baricentro del pressing questo bisogna dirlo sì quello sì però poi non è che ci siano state altre grandi grandi novità e mi piacerebbe vedere più spesso la le stesse soluzioni tattiche ma con la difesa a quattro come ha fatto a volte in passato che non perché questo sarebbe una soluzione migliore per l'Atalanta ma per vederlo io diciamo per la mia curiosità quindi a prescindere dal allora mettiamo anche Oilund difensore centrale no vabbè quello no quello no comunque ha avuto un'ottima stagione di Oilund e Lukman e credo che quindi la stagione complessivamente sia da guardare in modo positivo per me la stagione è una stagione sufficiente sei pieno ce l'ha non mi sento di andare oltre perché comunque non ha vinto tanti sconti diretti ne ha vinto piuttosto pochi e poi perché ha avuto un rendimento in casa da medio basso classifica ha perso tanti punti questo è un qualcosa che è un proseguimento di quello che già accadeva nella scorsa stagione cioè ormai l'Atalanta in casa non è più quella squadra che martella gli avversari e fa 4-5 gol chiaramente c'è una rosa diversa c'è un livello un tasso qualitativo più basso come dicevami poco fa però ecco in casa poteva fare meglio secondo me penso ai punti buttati con Lecce penso ai punti buttati con la Cremonese c'è stato anche un pareggio se non ricordo male con l'Udinese per esempio insomma ci sono stati diversi passi falsi in casa che hanno magari condizionato un'eventuale rincorsa alla Champions però comunque non è una squadra secondo me ai nastri di partenza che poteva realmente competere per le prime quattro posizioni magari con una discesa un flop di una delle prime quattro una delle strisciate soprattutto però è una squadra che rischialmente poteva fare l'Europa League è riuscita ad arrivarci nonostante la non partecipazione o la scarsa partecipazione offensiva delle due punte colombiane per diversi motivi Zapata chiaramente per problemi fisici quello che in realtà la stagione ha giocato forse un po' di più dall'inizio però anche lui insomma non è che abbia fatto bene anzi c'è stata una buona stagione di Copp Maners anche se non mi è piaciuto e non condivido insomma la scelta di Gasperini nell'ultima fase di metterlo così spesso da 3-4 è una scelta che siccome ci può stare in alcune partite vedi la trasferta con la Lazio dove devi andare a prendere il play le partite quello che credo sia stata una delle migliori se non la migliore prestazione stagionale dell'Atalanta ci sta se vuoi andare a marcare il play basso se in generale devi fare tutta la partita secondo me è meglio avere Copp Maners più arretrato per esempio nella primissima parte di stagione quando l'Atalanta giocava più in transizione difendeva con un blocco più basso avere Copp Maners più basso in costruzione o nella gestione della palla ti permetteva poi di andare subito diretto abbiamo visto tanti lanci da parte sua o su Muriel o su Lukman o su Oilun insomma dava una certezza nella distribuzione dell'uscita a palla cosa che un po' la Dea ha perso secondo me con la coppia dell'UnEderson anche se Ederson secondo me ha fatto uno step riuscito a trovare continuità da box to box in mezzo al campo quindi come avrei detto mi piacerebbe magari vedere la coppia Copp Maners ed Ederson con un po' più di costanza in futuro anche se chiaramente è rinunciabile sugli esterni purtroppo c'è stato un contributo molto scarno a parte Zappacosta forse è l'unico che arriva alla sufficienza piena che però pure lui ha avuto diversi problemi fisici tutti gli altri hanno dato poco nulla a livello offensivo Mera è stato molto incostante soprattutto nella prima metà di stagione Atteborg ormai dà una vita che non segna e secondo me c'è un po' questo falso mito nel ricordare Atteborg come questo golador perché poi sono andato a controllare in realtà Gosens aveva sempre tra i due il contributo offensivo maggiore Atteborg a parte un'annata non è che abbia segnato così tanto in realtà a discapito poi di quante volte effettivamente attaccasse l'aria e forse è vericoloso dico come posizionamento per la Dea difensivamente mi aspettavo qualcosa in più sinceramente Toloi l'ho visto meno bene rispetto agli altri anni poi anche Musso comunque in posta il fatto che c'è stata questa alternanza finale con Sportiello mi fa capire mi fa pensare che lo stesso Gas non sia al 100% convinto di lui in questo momento come la prima scelta vedremo cosa succederà tra l'altro visto che Sportiello teoricamente è in uscita però sicuramente l'ottima stagione di Oilund l'ottima almeno fino a febbraio marzo di Lukman sono dei punti in più a livello di valizzazione beh in porta l'Atalanta deve fare solo una cosa riportare carne secca a casa e affidare le chiavi dei pali perché parliamo di un giovane portiere in ascesa che per carità fa qualche errore però si vede che questo che questo qui di talento ne ha tantissimo e prima che arrivi qualche altro club a volerlo prendere che secondo me già c'è però l'Atalanta almeno una stagione con lui tre pali da titolare fisso deve provare a farla magari anche due però poi lì dipende da tanti fattori un altro giocatore che non avete citato ma che mi ha deluso è Occoli che dopo una bella stagione in Serie B con la Cremonese non ha fatto minimamente bene con l'Atalanta ha giocato tanto soprattutto nelle prime 6-7-8 giornate facendo dei disastri poi giustamente Gasperini l'ha tolto un po' dalle rotazioni però mi aspettavo qualcosa in più da parte sua non mi aspettavo invece questa gestione di De Miral che di fatto nella buona parte della stagione diciamo nell'ultimo 60% della stagione è diventato la quarta quinta opzione al centro della difesa e immagino che quest'estate partirà vedremo chi nel caso lo vorrà prendere però non mi aspettavo che finisse così indietro nelle gerarchie perché comunque parliamo di un centrale che secondo me è di tutto rispetto poi per carità ha dei difetti abbastanza evidenti però secondo me non è inferiore rispetto a Palomino a Gym City e poi io credo che venendo al voto credo che questa stagione sia la 6 e mezzo perché non era per nulla scontato tornare in Europa e nello specifico in Europa League dopo la deludente stagione scorsa arrivare davanti alla Roma in campionato secondo me è un plus perché la Roma ha più qualità rispetto alla Dea insomma ci sono stati valorizzati due giovani su tutti o il Lundes Calvini dal punto di vista del gioco secondo me c'è stato un po' un passo indietro rispetto agli anni d'oro come diceva anche giustamente Mick un po' perché qua è calata la qualità insomma c'è meno creatività non ci sono più i Gomez e i Lili cicci del caso però anche poi per poi val di brillantezza insieme a una squadra che non è nemmeno lontanamente da quella lì e forse considerando anche questo aspetto questo questo quinto sesto posto risulta ancora più 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 importante e più degno di applausi Volevo chiedere a Gab cosa pensa della stagione di Scalvini che quest'anno di fatto è diventato un titolare inamovibile Secondo me è stata una buonissima stagione è un giocatore che insomma come dicevi te si è imposto come titolare inamovibile nell'Atalanta è un giocatore che è perfetto per fare il braccetto nella difesa tra ieri Gasperini è bravo sia quando deve fare uscita in avanti magari sulla mezzala come per esempio ha dovuto fare contro la Lazio nelle gare contro la squadra di Sarri sia quando magari deve uscire lateralmente insomma un giocatore che è aggressivo mi aspettavo così in più dal punto di vista della gestione del pallone nella fase di possesso perché considerando che nel finale della stagione precedente Gasperini l'aveva messo spesso anche a centrocampo e aveva fatto vedere di essere un giocatore comunque tecnicamente dotato non un pirlo però un giocatore che la palla sapeva gestirla anche in zone di campo delicate e invece un po' per come gioca l'Atalanta un po' secondo me anche per dei meriti suoi questa bravura nella fase di gestione della palla non si è vista tantissimo e penso sia un aspetto in cui lui possa migliorare però parliamo di un 2003 un giocatore che ha accumulato esperienza nel nostro campionato e da lui mi aspetto dei miglioramenti l'anno prossimo così come me li aspetto da Oilund che ha avuto alti e bassi in questa stagione ha avuto un periodo in cui sembrava inarrestabile poi un pochino calato diciamo che questa sua stagione ci ricorda come la crescita dei giovani non sia sempre costante cioè non è che partono da A e poi vanno A più 1 poi vanno A più 2 poi vanno A più 3 magari partono da A vanno A più 1 poi vanno ad A più 0,5 poi magari vanno ad A più 1,5 insomma non è sempre costante la crescita dei giovani però anche da Oilund mi aspetto un miglioramento nell'anno prossimo sperando che rimanga ma io fossi la Dea fare di tutto per tenerlo perché nella prossima stagione Oilund può fare veramente le fiamme e tra l'altro un dato che ho trovato clamoroso secondo il modello di Understat Oilund ha una media di non penalty expect the goals per 90 minuti che è doppia rispetto a quella di Zapata perché Oilund ce l'ha dello 0,5 Zapata appena dello 0,25 forse questo dice più della stagione negativa di Zapata che di quella positiva di Oilund perché 0,25 in una squadra come l'Atalanta è qualcosa di bassissimo però dice anche di come con quel giocatore lì in campo la Dea giocasse meglio e fosse più pericolosa rispetto invece a quando c'era il colombiano secondo me nelle difficoltà di Scalvini comunque va detto che ha giocato quest'anno quasi solo a sinistra l'anno scorso invece aveva giocato anche spesso a destra con i fortuni e i problemi fisici in generale di Toloi quindi magari se l'Atalanta prenderà un centrale mancino o comunque anche un esterno mancino questa squadra insomma ha bisogno di mancini sulla catena sinistra e con Scalvini schierato a destra ma forse anche al centro sarei curioso di vederlo pure come centrale dove è chiusa a tre credo possa fare emergere le sue qualità in possesso con più costanza io vi ricordo che se volete arrivare preparati alla finale di sabato tra Inter e Manchester City abbiamo registrato la preview nella puntata che è uscita lunedì pomeriggio quindi andatevelo a recuperare se non l'avete già fatto poi noi usciremo tra domenica e lunedì per analizzare la finale e parlare di altri argomenti come per esempio di quello che sta succedendo al Milan con il licenziamento di Maldini Massara e comunque per stasera è tutto saluto e ringrazio Michele Tossani ciao Mick ciao ciao grazie a tutti ciao Gab ciao Charlie vado a digerire i pasticciotti comunque di Maldini ne parlerò anche nella mia newsletter che esce domenica mattina intanto vado a digerire i suddetti i pasticciotti iscrivetevi assolutamente alla newsletter di Mick e poi saluto anche Charlie ciao 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 a tutti alla prossima ovviamente se questa puntata vi è piaciuta mettete le 5 stelle su Spotify o su Apple Podcast e se ci seguite su YouTube mettete il pollicione e iscrivetevi al canale ciao